Paola Minaccioni Attrice Paola, Paola attrice Futuro Lo temo molto il rimpianto, preferisco avere dei rimorsi Amore Io fedele, lo dico come un limite Ferzan Ospetek mi ha fatto andare in alcuni luoghi non esplorati E quindi ho avuto coraggio Carlo Vanzina ha avuto molto amore nei miei confronti Era già più vicino a quello che si sapeva di me e che io sapevo di me E io dico Ferzan Ospetek Come va a dividerli? Lill e Greg Beh guarda io per la Ferilli ho una passione Beh insomma sono buona, sono proprio buona Quindi diciamo bella per te L'ho vista anche recentemente E sul palco è una grande Però insomma io sono buona Beh Giorgetta è più simpatica Giorgia è simpatica Melania insomma Diciamo che la differenza tra me e Melania Trump È che io mi faccio un masso così E quella ha fatto un cazzo in vita sua Franca Valeri ha tracciato la grammatica della comicità femminile Prima di lei nessuno aveva mai raccontato le donne Il punto di vista delle donne in modo così autoironico Cosa che a me mi piacevano i WAM I WAM Mi piace continuare a cercare di mettere in ordine il caos Paura di non vivere al 100% A me piace più il teatro È tutto più semplice poi al teatro Perché tu sai da dove vieni, dove vai, chi sei Cosa succederà Il tuo personaggio chi è Cioè tu sai tutto al teatro, no?